Anche se piccolo come Monteore, però il Foglio Venezia Giulia è la prima regione per utilizzo di voucher che sappiamo molto bene e sicuramente non è sinonimo di contratti neanche a tempo determinato. E va bene, questo è un bel dato e va in pandan, soprattutto con una riduzione del 36% credo, almeno nel primo trimestre del 2015, dei contratti a tempo indeterminato. Quindi cala il lavoro stabile e aumenta la schiavitù, cioè non parliamo di lavoro accessorio, questa è vera schiavitù. C'è neanche il centro-destra per aver riuscito a fare così bene? Beh, in realtà non tutto il male di questo mondo l'ha fatto Renzi, ha fatto quello che poteva. Cioè i voucher li ha inventati Berlusconi, il secondo Berlusconi, e sono stati confermati da Prodi, Monti, Fornero e poi Renzi ci ha aggiunto del suo e li ha resi più facilmente utilizzabili. Il povero Berlusconi pensa più che altro ai lavori domestici, quindi sfruttamento delle badanti, sfruttamenti in ogni caso perché ovviamente una badante con un voucher da un'ora lavora a 12 ore e si arriva all'ispezione e mostra quello, no? Quindi non vorrei suggerire come si fa a frodare l'Inps e i lavoratori. E adesso, grazie agli ultimi governi, i voucher possono usarli tutti in pratica, quindi anche nell'industria. Senta, dalle elezioni a oggi Trieste e Pordenone, da quello di Rimo Falcone, dal referendum, lei quanta umiltà sta vedendo nel PD? Sì, umiltà? Non so, io credo che devono cercare su internet questa parola o su Wikipedia. Nel PD ci sono persone per bene, ex compagni che diciamo che sbagliano, però non hanno imparato la lezione, credo che continueranno a sbagliare e quindi la parola sinistra sarà sporcata da governi che la usano come logo. Questa andolina oggi è vestita in rosso nero, forza mila? No, è il rosso. Il nero l'ho cominciato a usare in Afghanistan, anche le mutande, perché così non vorrei cambiarsi per settimane. Quindi lavavo tutto assieme. Il rosso ovviamente è il colore più importante che c'è ancora.